Buonasera e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo con la cronaca. 28enne arrestato dagli agenti della stradale di Arezzo lunga la lista delle contestazioni per l'uomo pluripregiudicato ed evaso dai domiciliari. Erano circa le 8 del mattino quando una pattuglia della sottosezione di Battifolle ha ricevuto dal centro operativo della polizia stradale di Firenze una nota di ricerca di una panda bianca con targa italiana che ha provocato un incidente in autostrada e si era data alla fuga in direzione nord. Grazie al lavoro di squadra e di tutti gli equipaggi l'auto è stata individuata e fermata. A bordo il 28enne era privo sia della carta d'identità che della patente. Il giovane doveva essere a 400 chilometri di distanza nella sua abitazione a scontare gli arresti domiciliari per un reato in materia di stupefacenti. Quindi è stato accompagnato in carcere in attesa di giudizio. Tagli alla sanità, l'incontro definito, costruttivo dal presidente della regione Eugenio Gianni che ha incontrato oggi il ministro della salute Orazio Schillaci. Grazie a Settimelli. Era un incontro molto importante e devo dire io l'ho colto con positività, con molta costruttività. Così il presidente della regione Toscana Eugenio Gianni sull'incontro con il ministro Schillaci che si è concluso a Roma. Diverse le questioni sul tavolo tra cui se e quando arriveranno alla Toscana le risorse per la sanità garantita ai lavoratori immigrati e se davvero il governo non intenda più rimborsare il payback farmaceutico alle regioni. Ho visto da parte del ministro la consapevolezza che sarebbe stata una profonda ingiustizia vedere l'anno scorso consentire nel bilancio della regione di poter acquisire i crediti che derivano dal payback dei dispositivi sanitari. Addirittura l'anno scorso ci furono riconosciute quattro annualità, quindi 390 milioni e quest'anno il nulla. Cerchiamo di trovare una via di mezzo, di far riconoscere almeno due annualità, le 2020 e 2021, quindi con circa 200 milioni andare a chiudere il bilancio della sanità 2023. L'impegno con il ministro è stato quello che si farà carico di poter perorare la causa sul ministero, il cosiddetto MEF, il ministro dell'economia e finanza, il ministero che ha i cordoni della borsa. Quindi in una settimana e dieci giorni vediamo se può essere o riconosciuto con decreto ministeriale questo credito da parte della regione o comunque valutato un credito in questa misura come elemento compensativo per il nostro bilancio. Comunque è un incontro costruttivo con un ministro che ha saputo ascoltare e farsi carico di un problema che diventa comune, quello dello Stato e della regione, di poter far quadrare i conti di una sanità d'eccellenza come quella toscana, il ministro l'ha riconosciuto. Telecamere che leggono le targhe delle auto, così in un anno i carabinieri hanno fermato 52 ladri. Gli ultimi casi risalgono a lunedì scorso quando quattro persone sono state arrestate a Sansepolcro e tre a Cassiglion Fiorentina. Avevano messo a segno alcuni furti e sono stati incastrati dalle telecamere sia quelle dei supermercati nei pressi di quali hanno agito, sia quelle speciali in grado di leggere le targhe. posizionate queste ultime dai comuni su specifici tratti stradali. Numerosi comuni hanno adottato questa tecnologia nella nostra provincia, Sansepolcro e Anghiari ne usufruiscono da tempo, Pieve e Santo Stefano le stanno installando, sono presenti anche in Valdichiana nel Cortonese, in Casentina a Subbiano, in Valdarno a San Giovanni nel comune capoluogo. Per il momento il progetto è in divenire. Sciopero dei lavoratori aderenti alla FIOMCGL della Comnet a causa della cessione di un ramo d'azienda. I manifestanti si sono dati appuntamento questa mattina davanti all'azienda nella zona industriale Carbonaia di Arezzo. Chiara Sadotti. Se loro si fermano, l'azienda non va avanti. Loro devono capire che non possono continuare in maniera unilaterale ad andare avanti in questa operazione se non considerano anche le esigenze dei lavoratori. Continuano a denunciare queste operazioni che fa questa azienda che scaria sui lavoratori il costo di operazioni per cercare di trovare la sostenibilità. Come ricordano i lavoratori con qualche cartello, non sono i bancomat di questa azienda. Hanno incrociato le braccia per otto ore di fronte allo stabilimento nella zona Carbonaia di Arezzo, un presidio dei lavoratori Comnet per protestare contro la cessione del ramo d'impresa della telefonia in favore di TSD. Il contratto affitto può essere disdettato, poi alla sua naturale scadenza può essere appunto non prorogato. Se veramente l'azienda è così convinta della solidità e della bontà di questa operazione, poteva tranquillamente procedere con un'acquisizione definitiva. Ricordo soprattutto che questa azienda ha un sacco di pendenze sia con i lavoratori, sia soprattutto anche con tanti fornitori. Dal 2020 che l'azienda non versa per esempio i contributi al fondo previdenziale contrattuale Cometa e da settembre che non eroga il welfare contrattuale, quindi hanno da avere, sì lo stipendio secco c'è, ma tutto il resto no. Dito puntato anche contro la variazione del contratto collettivo nazionale da metalmeccanico a telefonico. Vedrebbero diciamo in media dalle 2-300 euro mensili in meno e non parlo soltanto di minimità Bellari, ma parlo anche di tutto ciò che in termini di salario differito prevede il contratto dei metalmeccanici. Considerando che questa è un'azienda che lavora tanto anche con i fondi del PNRR, quindi noi pensiamo che quelli siano fondi, soldi sacrosanti che debbano servire non soltanto a rimpinguare le tasche delle multinazionali o dei grandi gruppi, ma debbano servire soprattutto a salvaguardare la qualità e la quantità dei posti di lavoro. E torniamo a parlare di alta velocità nella stazione Medio Etruria dopo la decisione di collocarla a Creti. Ha scatenato ancora molte polemiche. Oggi interviene il vicepresidente del Consiglio regionale esponente della Lega, Marco Casucci. Vediamo quello che ha detto ai nostri microfoni. Indubbiamente trovo il teatrino che si è svolto in questi giorni non sempre di buon gusto, anzi tutt'altro. E devo dire che condivido la posizione del mio partito che ritiene quella di Rigutino la soluzione più plausibile, più possibile. La Lega Toscana tramite i segretari regionale e provinciale si era espressa nelle ultime ore. Secondo il partito del Carroccio la localizzazione della stazione Medio Etruria è Rigutino. Una presa di posizione condivisa anche dal consigliere regionale membro del direttivo della Lega, Marco Casucci che ribadisce però l'importanza di tenere i riflettori accesi anche sul territorio cortonese. Nell'ipotesi in cui si dovesse convergere verso Rigutino Cortona e come altri territori meritano delle compensazioni perché io ho lavorato tanto per portare concretamente una fermata dell'alta velocità a Terontola è stata confermata per il 2024 ma c'è tutto il tema della stazione ferroviaria di Terontola. Il territorio merita tutto di essere considerato. E proprio la scelta di Medio Etruria Creti aveva acceso il caso Cortona segnando una spaccatura nel centro-destra a Retino soprattutto tra Lega e Fratelli d'Italia con il rebus sulla riconferma del sindaco uscente Luciano Meoni. Per quanto mi riguarda devo dire due cose. La prima che ho dato a prescindere la mia disponibilità a candidarmi per il bene del territorio secondo gli ideali che mi vedono impegnato in Lega da 15 anni. La seconda è che opererò sempre nel mio possibile per trovare la quadra unitaria. Le energie rinnovabili al centro del convegno che si è svolto alla Casa delle Energie in collaborazione con EcoFuturo. Nell'occasione è stato annunciato che la stessa Casa dell'Energia dedicherà uno spazio alle comunità energetiche rinnovabili. Chiara Sadotti. Comunità energetiche rinnovabili, istruzioni per l'uso. Questo è il titolo del convegno alla Casa dell'Energia organizzato dopo che la Commissione europea ha autorizzato il provvedimento italiano per finanziare con incentivi e contributi a fondo perduto le comunità locali per sfruttare l'energia rinnovabile. Si parte per un nuovo progetto di condivisione dell'energia. Ovviamente che parte da questo progetto che è dal 2016 un gruppo di autoconsumo collettivo che dà energia ai partner che si trovano all'interno e che vorrebbe mettere a disposizione nuova energia da condividere con la città. Abbiamo bisogno degli enti amministrativi, in primis il Comune di Arezzo, poi ovviamente sono presenti la provincia e la regione per cercare di fare questa attività nell'interesse dei cittadini e ovviamente in particolare nei cittadini che hanno dei problemi di povertà energetica. In questo momento sappiamo essere in Italia più del 10%. Un incontro organizzato assieme ad Eco Futuro. Sono venuti tanti di quelli che hanno proposto comunità energetiche in questi anni anche con polemiche che abbiamo fatto ma alla fine ci stiamo ritrovando all'interno di un'idea progettuale che mi pare possa diventare il sale anche di unità di una comunità. L'importante è farle sul serio e la seconda questione è che bisogna che la gente ci investa nella comunità energetica. Proprio all'interno della Casa dell'Energia nascerà uno spazio dedicato alle comunità energetiche rinnovabili. Noi avremo il contatto di tutti coloro che vogliono partecipare alle comunità energetiche privati, commercianti, artigiani eccetera e mano a mano identificando dove abitano daremo vita progressivamente a comunità energetiche perché le comunità energetiche si possono fare all'interno di una cabina primaria che riguarda circa 20.000 abitanti. Con questa operazione noi facciamo in modo mano a mano di far partecipare tutti ovviamente con soluzioni diverse. E cambiamo argomento sono tante le rappresentazioni della Natività di Gesù che andranno e attireranno tanti grandi e piccini da domani in poi in ogni angolo della nostra provincia. Ripocorriamo il mondo dei presepi viventi e non in questo nostro prossimo servizio. Natale è sinonimo di presepi e sono tantissimi. Quelli sparsi in ogni angolo della provincia. Tra i più attesi senza dubbio lo storico presepe vivente delle ville di Monterchi che quest'anno dopo tre anni di assenza torna nella sua tradizionale location. Un intero borgo che lavora tutto l'anno per un allestimento monumentale che diventa spettacolo il 26 e il 30 dicembre l'1, il 6 e il 7 gennaio. Nel suggestivo borgo di Laterina poi la venticinquesima edizione della mostra concorso presepi. Per il venticinquesimo anniversario l'associazione presepi ha anche pensato di promuovere la mototerapia per bambini ed adulti con difficoltà grazie alla collaborazione con Freaseline Metti in moto il Natale. Torna anche la bellezza e la suggestione del presepe vivente di Castiglion Fiorentino. Martedì 26 dicembre sarà possibile seguire il percorso che si snota nel centro storico scoprendo gli angoli più belli e caratteristici in un'atmosfera magica che riporta indietro nel tempo con oltre 100 comparse. A Cortona torna invece il presepe vivente di Pietraia con un'anteprima della rappresentazione della natività nel cuore del centro storico cortonese per Natale di Stelle. Appuntamenti poi il 25 e il 26 dicembre l'1, il 6 e il 7 gennaio nel borgo in un percorso di oltre mille metri con più di 100 figuranti. Domenica 17 e martedì 26 dicembre appuntamento invece con il presepe vivente nel borgo di Oliveto dove tornano momenti di vita contadina e antichi mestieri. Presepi originali provenienti da tutto il mondo ospitati anche nell'atrio d'onore del palazzo della provincia di Arezzo. La natività infine sbarca anche sui social con la quarta edizione del concorso Un Presepe al Giorno lanciato dalle ACLI di Arezzo per premiare migliori presepi realizzati nelle case, nelle scuole e nelle parrocchie. E proprio per onorare la tradizione in tema di presepi il vice sindaco di Arezzo e Lucia Tanti ha fatto un particolare invito a tutte le scuole comunali. Greta Settimelli. Arezzo vive il suo ponte dell'Immacolata con i numeri che insomma tutti ci aspettiamo per la città del Natale. Lei però ha fatto un invito piuttosto singolare, in questo caso immagino alle scuole. L'ho fatta alle scuole municipali perché sono le scuole che in qualche modo rispondono all'amministrazione comunale è quello di non dimenticarsi comunque di in maniera molto discreta lasciare un segno di questo tempo. L'8 dicembre sarà Natale un fatto che qualcuno lo vive in termini religiosi, qualcun altro in termini culturali, qualcuno in entrambi i casi. Io credo che l'integrazione passi anche dal rispetto della propria identità e quindi ci sono sempre stati. C'è stato un momento in cui qualcuno non li voleva fare. Ora abbiamo capito che non è una cosa intelligente però ho pregato di non dimenticarsi del presepe nelle scuole. Un invito, lo ha già detto un po' lei in questa battuta, che era necessario o comunque sia è un sentire che lei ha già riscontrato? No, non era necessario, è opportuno però. So che peraltro in alcune scuole è stato già fatto ed è anche un momento di sottolineatura di una particolare fase nella quale ci troviamo. Io credo che questa vuole essere una città accogliente la prima cosa che fai quando conosci qualcuno è presentarti. Io credo che questa sia la migliore carta per presentare la nostra città, cioè quella di ricordare un fatto storico per qualcuno spirituale, per qualcuno culturale che se si evidenzia senza voler essere eccessivamente invasivi ma volendo semplicemente ricordare quello che si è, secondo me si fa una buona cosa per tutti. E rimaniamo in tema natalizio perché anche Cortona si immerge nel clima, un ponte dell'Immacolata con strutture ricettive a completo e tanti eventi nel lungo weekend a fare da sfondo, le tante iniziative con le attrazioni fisse il light mapping in Piazza della Repubblica la casa di Babbo Natale a Palazzo Ferretti mercatini in Piazza Garibaldi e Signorelli dove si trova la struttura riflettente da venerdì 8 si apriranno tre mostre al centro convegni di Sant'Agostino protagonisti il fotoclub a Etruria, gli alunni dell'istituto scolastico Cortona 1 con le opere di riciclo e riutilizzo e la mostra Natale in arte la sera di venerdì 8 alle ore 21 si terrà l'evento benefico note nel silenzio al teatro Signorelli sabato 9 invece sarà di scena il mercatino degli scout in centro alle 18 il musical in Piazza della Repubblica e alle 21 il concerto barocco a San Filippo domenica 10 dalle ore 10 spazio al mercato di Campagna Amica in Piazza della Repubblica alle 10.30 nella sala consigliare si terrà l'elive Cortonensis il concorso dedicato a produttori di olio d'oliva e alle 15 il momento dell'ingegneria del buon sollazzo con i giochi d'altri tempi in Piazza della Repubblica non mancheranno gli appuntamenti culturali con la conferenza di Pietro Maltracchi dedicata alle mura di Cortona alle ore 16 in sala medicia di Palazzo Casali e tutti gli appuntamenti che vi abbiamo detto e anche gli altri saranno consultabili sul sito www.cortonanatale.it e sempre in tema natalizio siamo ormai proprio nel clima della festa con i dolci e scopriamo insieme a Menchetti un dolce della nostra tradizione toscana il panforte vediamo in questo momento stiamo vedendo il signore dei dolci di chi stiamo parlando? insomma sta il panforte meraviglioso insomma sta il panforte che che non si dica che non viene lavorato a mano no direi che insomma il nostro Agostino si sta veramente dando tanto da fare impegnando sì allora la ricetta il segreto Menchetti per il panforte allora la ricetta non è altro che farina miele mandorle canditi non trattati con l'anidride sorforosa e spezie quindi diciamo che non c'è un segreto credo che ogni artigiano ogni pasticcere metta del suo nella speziatura che diciamo che sono un blend di spezie toscane che caratterizzino un panforte da un pasticcere rispetto a un altro questo è un dolce che come tanti dolci della tradizione è buono se consumato nel tempo quindi immaginate che noi nel 2005 abbiamo vinto un premio all'agri sapori di Milano con un panforte il primo premio come bignocco panforte d'Italia con un panforte che aveva sei mesi quindi incredibile sì perché lì le spezie danno il suo massimo e con cosa lo possiamo accompagnare se volessimo brindare tutti insieme panforte e vinsanto o comunque un dolce licoroso un passito va anche bene la compagnia Il Polvarone andrà in scena domenica 10 dicembre alle ore 17.30 al teatro Pietro Aretino tra i vari eventi della città del Natale di Arezzo tra le novità del nuovo spettacolo Brigitta da Mombacino con nuovi attori in scena e l'inserimento del gruppo Gli Arda Capo che con i loro stornelli e le musiche dal vivo renderanno ancora più divertente e trascinante la commedia scritta da Roberta Sodi la serata sarà dedicata alla memoria del professor Giuseppe Pasquini recentemente scomparso e concludiamo con una notizia di sport perché continuano le iniziative per celebrare i cento anni dell'Arezzo Calcio Orgoglio Amaranto con il patrocinio del comune di Arezzo organizza la storia e qui una partita lunga cento anni una serie di serate dedicate a momenti emblematici della vita calcistica e sociale del Cavallino con i protagonisti delle varie stagioni che torneranno ad Arezzo per rivivere insieme ai propri ex tifosi le emozioni e il clima dello spogliatoio gli incontri si svolgeranno presso il teatro Pietro Aretino e il teatro Mecenate di Arezzo il primo incontro sarà lunedì 11 dicembre al Pietro Aretino di Via Becchieraia ed il titolo della serata sarà Cosmilandia con ospite neanche a dirlo Cerse Cosmi tecnico icona della scalata e rinascita degli Amaranto dopo la prima radiazione insieme a lui ci saranno Balducci Nofri di Loreto Mifini Semplici ed altri giocatori di quell'epoca tutti gli eventi saranno ad ingresso libero e questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito buona serata con i nostri programmi grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito